Se uno è qui presente da dieci anni su territorio nazionale, può fare tranquillamente domanda di cittadinanza e non vedo alcun tipo di problema e non penso a una limitazione dell'integrazione. Anzi, io voglio dire, alcuni paesi dove hanno alleggerito i paletti per la cittadinanza, faccio l'esempio della Francia, non ha creato integrazione, anzi, pensiamo soltanto alle periferie parigine. Ricordo oltretutto che, per esempio, gli attentati di Charlie Hebdo, gli attentati a Londra, sono fatti da stranieri che avevano la cittadinanza francese e inglese. Quindi è la dimostrazione che la cittadinanza non serve all'integrazione, è semplicemente una scusa per far avere un bacino elettorale al Partito Democratico.